Ti piacerebbe, vero, smettere di lavorare ben prima della pensione e stare a grattarti la pancia per tutto il tempo finché lo Stato gentilmente non ti sgancerà i soldi? Esiste un movimento che si chiama FIRE, F-I-R-E, che vuol dire Financial Independence Retire Early, indipendenza finanziaria, vai in pensione presto, che ha proprio come presupposto quello di mettere via in fretta un ingente capitale al fine di poter in seguito vivere di rendita attingendo a quel capitale fino a che non arriva l'età pensionabile per gli italiani oppure per gli americani che spesso la pensione non ce l'hanno finché non arriva l'età a cui non hai più bisogno di denaro. Questo è il famoso movimento FIRE. Non stiamo qui a discutere su come mettere via soldi, che tra l'altro in tutte le discussioni relative al movimento FIRE ho visto che di base propongono il solito portafoglio che consiglio anch'io, che è quello azionario, 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 basato su etf o su azioni solide. Parleremo invece di quanti soldi ti servono per poter andare in pensione, perché spesso si sente dire la famigerata regola del 4%, vale a dire se tu puoi attingere al 4% del tuo portafoglio per tutto il resto della tua presunta vita, allora sei a posto. La regola del 4% spesso è un modo sicuro per portarvi ad essere vecchi e morti di fame allo stesso tempo, che è una delle situazioni peggiori, perché giovani e morti di fame puoi sempre lavorare, vecchi e morti di fame già diventa ben più difficile. Ci facciamo prima i conti approssimativi, come sento fare spesso, poi faremo dei conti molto più dettagliati e poi, siccome la montare di dati che ho a disposizione non mi piace perché non è sufficiente, andrò a fare delle simulazioni, questa volta, come al solito, usando Python. Iniziamo subito col foglio Excel per i conti semplificati. Questi sono i conti, diciamo, semplificati. Supponiamo un rendimento netto dei tuoi investimenti del 6%, che devo dire è tanto, ma tanto tanto, è netto. È un'inflazione del 3%, non dobbiamo dimenticare anche l'inflazione, perché quello che tu hai bisogno ogni anno, che io qui ho stimato in un 26.000 euro netti, cioè te la stai spassando, insomma, perché sono 2.000 euro netti al mese più la tredicesima. Vedete, ho proprio previsto 2.000 per 13, perché so che gli italiani alla tredicesima ci tengono particolarmente. Non è 26.000 euro tutti gli anni, dopo aumenta 26.780, 27.5. Guardate quanto aumenta l'inflazione. Dopo 10 anni già tu devi attingere quasi 35.000 euro, quindi ben di più. Dopo 20 anni, ecco qui, devi attingere 47.000 euro. Quindi un'inflazione del 3% è forse un po' pessimista, ma insomma l'Italia come inflazione ha oscillato da 0 a 15%, quindi 3% non è poi così tanto pessimista. Rendimento netto 6% è gran ottimista, vuol dire che investite in uno standard and poor e lo standard and poor va bene come è sempre andato bene. Chiaramente le celle in giallo sono modificabili, ad esempio se ritenete di investire in cose peggiori. Chiaramente se il vostro vendimento netto è meno del 3%, la cosa sarà molto molto dura sopravvivere. Qui ho messo 26.000 euro, se volete una vita più morigerata potete mettere ad esempio 1.500 euro per 13, ecco che già con 19.500 va molto meglio. Questo è quanti soldi avete nel momento in cui decidete di smettere di lavorare, quindi di smettere di avere entrate e quindi in cui avete bisogno di questo prelievo costante. Se per caso qualcuno di voi dovesse avere bisogno di un prelievo che non è costante, quindi non è di 2.000 euro per 13 ogni anno, ma ad un certo punto ad esempio arriverà l'età pensionabile e quindi avrete un altro introito e quindi potete prelevare meno, potete tranquillamente modificarlo qui nelle formule. Dopo faremo vedere come fare questa modifica comunque. Ecco, prendiamo un capitale di 700.000 euro. Supponiamo che voi andiate in pensione, vi ritirate, perché in americano retire vuol dire in italiano andare in pensione, ma per loro il significato è molto diverso. Loro non hanno un sistema pensionista in cui puoi andare in pensione solo a un certo momento stabilito dalla legge. No, loro a un certo punto fanno retire, i loro fondi pensione comunque gli pagano solo da un certo momento in poi, ma nulla vieta uno di fare retire molto prima, cosa che secondo me in Italia è abbastanza impensabile, perché provate ad andare in giro a dire, scusate, ciao, piacere, sono Paolo, ah sì, cosa fai di lavoro? Un cazzo. Ma non voglio aprire una parentesi su questo, per la quale si potrebbe fare più una live più che un video apposito. Andiamo comunque a guardare quanti soldi vi servono per vivere, io in questo caso ho supposto dai 50 ai 100, quindi ecco qui 100, per arrivare ai 100 praticamente a zero. Ecco, faccio notare che in questo caso voi non state lasciando niente ai figli, eh? Quindi partendo con 700.000 euro, prelievo 26.000 euro ogni anno, questo è il vostro capitale nominale, vedete il capitale all'inizio cresce. Ecco qui ho fatto, la formula è facile, ve la faccio vedere, capitale nominale meno il prelievo, che avete fatto l'anno prima, quindi capitale cala, però supponiamo che il prelievo lo facciate al primo gennaio, in realtà lo distribuite lungo tutti i 12 mesi, ma insomma, per 1 più G3 che è il vostro rendimento netto del 6%, poi l'anno dopo ci togliete il prelievo che avete fatto l'anno prima per l'inflazione, aumentato l'inflazione, ok, ta 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 vedete un effetto molto strano, uno potrebbe dire vabbè se 6% di rendimento netto, inflazione 3%, se ogni anno io ci prelevo il 3% del capitale nominale, allora sono a posto. Vediamo quant'è questo rispetto al capitale nominale, giusto per curiosità mia, il 3,7, se prelevassi un po' meno, tipo 1.500, eh dai, 1.550, direi che se prelevo esattamente le differenze rendimento netto e inflazione, il capitale tende ad aumentare bene. Torniamo al caso originale, vedete il fenomeno strano, il capitale va in su, cresce, perché i primi anni ne avete tanto e questo 3% che vi rende sostanzialmente, meglio, non è proprio 3%, perché uno pensa che l'inflazione mangi questo capitale, in realtà l'inflazione più che mangiare questo capitale aumenta il prelievo, perché vi costringe a prelevare di più, visto che le cose costano di più e voi avete bisogno di più soldi. Aumenta, 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 raggiunge il punto di massimo, penso, attorno ai vostri 75 anni, con quasi un milione di euro, a quel punto siete tutti contenti, diciamo, ah che fico, un milione di euro, sono blindato, sei blindato un bel niente perché hai un prelievo di 56.000 euro, perché il tuo milione di fatto come valore reale vale molto meno, e infatti qui inizia un declino drammatico, guardate come va giù la curva, pam, e vi porta a 100 anni a essere a zero. A quel punto penso che, se siete ancora vivi, vabbè, chiederete qualche sussidio, che vi devo dire. Ok, quindi potete giocare un po' con questo sistema, molto facilmente, guardate, dipende moltissimo dal prelievo che fate, già una vita morigeratissima con 1.500, vedete, addirittura si impenna su esponenzialmente, vuol dire che i vostri figli godranno di questi 3 milioni di euro che lasciate loro, potete anche partire con 400.000 euro, forse, se vi limitate a 1.500, 1.500 di adesso, eh, 1.500 di adesso che per una persona, tutto sommato, che vive da sola, ci sta tranquillo, se ha la casa. Però, guardate, solo con 1.500, se partite con 400.000, a 80 anni siete vecchi e poveri. Quindi forse è il caso di partire con un po' di più, mezzo milione di euro, via. Ecco, con mezzo milione di euro a 95 queste vecchie e poveri, bisogna partire con un po' di più, 550.000. 550.000 è quasi troppi. Vedete, è molto molto sensibile. Con 554.000 arrivate a 100 anni e avete praticamente lo stesso valore nominale. Il nostro valore nominale non è lo stesso valore reale. Come fate a trovare questo numero giusto? Beh, una volta che avete fissato il prelievo, il rendimento netto e l'inflazione, per trovare il valore giusto è abbastanza facile, su data, io ho in inglese data what if analysis, e goal seek, imposta la cella e impostate la cella dei 100 anni al valore 0, modificando la cella, questa qui, tariffa tutti i conti e vi dice, guarda, con 525.000 euro, arrivi giusto a 0, perfetto. Se prelevi, 19.500 a ogni primo gennaio. Questo potete giocarci a piacere. Vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere cosa succede se a un certo punto, ad esempio, supponiamo che a 70 anni io riceva della pensione, quindi non ho più bisogno di 1.500, ma diciamo ho bisogno di 500. Avete comunque bisogno di un po', perché non dimenticate che vi mancano, in questo esempio specifico, 20 anni di contributi, perché tra i 50 e i 70 io non ho pagato contributi. E la pensione che percepite adesso, con le regole attuali, dipende quasi esclusivamente dei contributi, a meno che non siate di quei privilegiati che hanno lavorato prima del 1996, quindi per tutti quelli che andranno in pensione tra 20 anni si calcola solo sui contributi. Quindi voi avrete comunque bisogno di soldi, però ad esempio ho bisogno non più di 1.500 al mese, ma di 500 al mese. Come faccio a metterlo? Attenzione perché non è che potete mettere brutalmente qui uguale 500 per 13, perché i 6.500 tra 20 anni non sono i 6.500 di adesso, quindi dovete iniziare con 500 per 13 e dovete calcolare l'inflazione per 1 più l'inflazione alla anni passati 20, elevato alla 20. Ecco, ve lo faccio vedere la formula. Questo è quanto ritenete, se volete cambiare a un certo punto quello di cui avete bisogno, questo è quanto ritenete di avere bisogno per 1 più G4, l'inflazione alla 20. Invio, poi gli altri si ricaricano da sole, vedete avete bisogno di 11.740, Excel vi segnala che questa formula è anomala, perché è differente dalle altre. Ok, 12, 12 è un reaumenta. Ecco, vedete, questo qua si chiama in matematica punto non differenziabile, so che le persone comuni lo chiamano spigolo. Ecco, in questo caso mi basta molto meno, rifacciamo il conto, imposta la cella patrimonio a 100 anni al valore 0, cambiando la cella patrimonio iniziale. Ecco, guardate, questa bellissima cuspide direi che ve la cavate egregiamente. Questo vuol dire che se voi riuscite a avere una rendita del 6%, che sostanto eppure è sempre stato così, in teoria con meno di 400.000 euro a 50 anni potete iniziare a grattarvi la pancia. E con questo io chiudo, visto che ho già passato l'età, e vi saluto. No, no, perché cosa potrebbe succedere? Perché per avere rendite del genere, 6%, dovete investire nei mercati azionari, c'è poco da fare. E cosa fa il mercato azionario? Il mercato azionario mica vi dà un rendimento del 6% fisso costante. Il mercato azionario può darsi che voi becchiate un momento in cui, pam, va giù. E se va giù troppo, può ridurre il capitale talmente tanto che con i vostri prelievi lo mandate a zero. E lo mandate a zero molto prima dei 100 anni. Torniamo all'esempio più semplice, quello con un prelievo costante. 26.000 euro di prelievo costante, 700.000 euro di capitale iniziale. Andiamo a vedere cosa sarebbe successo se io 50 anni fa avessi avuto questa situazione. Quindi 50 anni fa ho 700.000 euro e dico, boh, smetto di lavorare e vado con un prelievo costante di 26.000 euro. Vediamo cosa mi succede dopo 50 anni. Abbiamo qui lo standard and poor che è quello che ci dà questi rendimenti indicativamente, anche di più ce li dà. Ho preso questa volta lo standard and poor con i dividendi? No, mannaggia, questo è senza dividendi. Ho preso quello senza dividendi perché purtroppo io non ho capito, ho avuto discussione con qualcuno di voi nei commenti, non ho capito come mai gli indici con i dividendi siano un segreto di stato. Cioè è difficilissimo da trovare un indici con i dividendi, mi dico, ma è molto più ovvio avere un indici che include i dividendi perché io voglio vedere come va con il mercato veramente, piuttosto che un indice che non li include. Il mistero della fede non si può avere gli indici con i dividendi, o meglio è sempre difficile e nel caso lo standard and poor ho trovato l'indice con i dividendi dall'88 adesso, quindi non ho 50 anni perché dall'88 adesso non sono passati 50 anni, quindi dovete usare l'indice senza dividendi. Ecco qui, il 2 gennaio 1970 vostro nonno decide, ho 50 anni, smetto di lavorare. Vabbè che all'epoca secondo me vostro nonno in pensione ci andava a 50 anni, ma a parte questo vostro nonno quindi prende i suoi 700 mila euro, li mette tutti nello standard and poor, non so come facesse negli anni 70, probabilmente dovrebbe andare in America di persona, vabbè che all'epoca quotava 93 e qui abbiamo anche il problema della valuta, non ho potuto fare il cambio perché se avessi fatto il cambio io ricordo con precisione che fino anni 70 io giocavo al Monopoli e con degli altri giochi da tavolo e mi ricordo con precisione che un dollaro valeva 800 lire, quindi un terzo di quello che vale adesso, quindi se io considerassi il cambio avrei completamente falsata questa cosa perché la lira era così, è così svalutata nel tempo che andare a investire in dollari sarebbe stato molto più comodo, quindi per semplicità supponiamo che siano erro, anche se non esistevano. Scusate il cambio di audio e il cambio di video ma mi sono accorto di un errore nel foglio e quindi ho dovuto registrare nuovamente tutta la seconda parte del video, queste sono tutte le date, vedete 2170, 2171, 2172, il valore dello standard and poor, quindi ipotizziamo che noi entriamo con 700 mila euro di capitale, 2170, subito facciamo un prelievo perché abbiamo bisogno di sopravvivere tutto il 1970, è stato un anno duro, faceva freddo, la crisi energetica, quindi subito preleviamo 26 mila euro, è tassa zero, è cribio, li abbiamo prelevati addirittura prima di investirli, residuo che è calcolato come, vedete, capitale meno prelievo meno tassa, ok, e viene 674 mila euro, quante quote possiamo acquistare dello standard and poor? 7.427,31, benissimo, vediamo cosa succede l'anno dopo, l'anno dopo ecco che abbiamo il numero di quote che avevamo l'anno prima, moltiplicata per il prezzo dell'anno seguente, poi c'è il solito prelievo, vedete il prelievo è aumentato adesso a 26.780, ogni anno è moltiplicato per questo 1 più l'inflazione, la tassa, e qui spero che apprezzerete la mia finezza, normalmente uno cosa dice? Beh, la tassa è del 26% su questa cifra, e no, non è mica così, sì, o meglio, è così se tu fai un investimento a dividendi, ed è per questo che l'investimento a dividendi non conviene, perché ti viene tassati tutto quello che prelievi, ma normalmente no, cioè normalmente se tu prelievi una parte di investimento, ti viene tassato tanto il guadagno di quella parte, e non è che tu hai prelevato il guadagno, a meno che appunto non hai fatto un investimento che prevede dividendi, tu fai un investimento d'accumulo, tu hai venduto una parte, e quindi guardate la tassa come l'ho calcolata, voglio vantarmi pubblicamente in questa formula, se H3, che è il prezzo, è più grande di H2, allora calcolo la tassa, altrimenti metto 0, e questo è ovvio, cioè se il prezzo che sto vendendo adesso è più piccolo del prezzo che li avevo acquistati, 0, se invece è più grande, vuol dire che ti sto facendo del guadagno, e quindi metto, tassato al 26%, sto applicando la tassazione italiana, chiaramente nel 71 in America, chissà che tassazione eccetera, J3, che è quanto prelevi, però attenzione, meno quanto ti erano costati questi 26.680 all'epoca, quindi meno di nuovo J3, diviso il prezzo attuale per il prezzo dell'epoca, quindi vedete che la tassa è irrisoria, normalmente se io facessi banalmente J3 per 0.26, verrebbe 6.963 euro di tassa, ma questo è vero se io questi qua li percepisco come dividendo, se invece li percepisco come plus valenza, 93, 53, 93 è salito così poco che in effetti pago una miseria di tasse, guardate qui, quest'anno qui è giusto che io non paghi tasse, perché addirittura è sceso 75, meno di quanto l'avevo applicato, ha comprato, quindi anche se io ci prelevo 70.000 dal mio investimento non pago tasse, anzi, a fare le cose fatte per bene, io qui avrei dovuto considerare che acquisisco una minus valenza, ma io questo non l'ho messo, avrei potuto metterlo, quindi sarebbe stato ancora leggermente più favorevole, in realtà non l'ho messo perché i casi in cui la tassazione è 0, quindi vuol dire che acquisite una minus valenza, è solo questo, perché solo in questo caso va sotto il valore iniziale, dopo sale sempre, anzi sale talmente tanto che a un certo punto la mia formula diventa irrisoria, ad esempio quando sale a questi livelli qui, se io utilizzo la mia formula o se io utilizzo banalmente questo per 0,26 viene simile, ecco infatti viene del tutto simile, però la mia formula all'inizio quando è salito di poco, io sto prelevando e non vengo tassato su tutto quello che prelevo, ma soltanto sul guadagnetto che ci ho fatto, e questo è molto importante, non l'ho mai visto considerato questo tra l'altro, ecco qui considerando anche la tassa, il residuo e vado avanti e faccio tutto il calcolo, e vediamo che con 700.000 euro di capitale, 26.000 euro di prelievo aggiustato per l'inflazione anno per anno, vedete in media guardate, si lo vedete qua sotto, la media è 10% ad esempio su quelli che ho selezionato, se li selezioniamo tutti, la media è 10% sempre proprio fisso, però un minimo di meno 35, un massimo di più 37, cioè abbiamo dei meno 17, meno 26, ecco qui, in questo caso qui a uno che va in pensione con 700.000 euro, o meglio si ritira con 700.000 euro e gli viene una bella paura, che dopo 5 anni è già sceso a 465.000 euro e sono dolori, perché fatica a risalire dopo, però si risolleva ed è a posto, quindi vedete a differenza di prima, qui addirittura un investimento che mi cresce sempre, beh mi cresce prevalentemente perché il rendimento medio è 10% lordo e la tassa non è calcolata brutalmente su quel rendimento, come se io stessi prendendo i dividendi, ma è calcolata sulla plusvalenza e quindi diciamo ha un calcolo un po' più favorevole, in questo caso ad esempio possiamo scendere a 500.000 ad esempio, ah no 500.000 ecco che mi si azzera nel 92, 600.000, con 600.000 mi si azzera nel 2009, mannaggia, mi si azzera sempre, 650.000, dobbiamo starci no? Con 650.000 ecco sale 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 fino al 2008, dopo è arrivata la, guarda che mazzata al 2008, 1.400.000, 888.000, meno 35%, dopodiché si riprende un po' ma i miei prelievi adesso iniziano ad essere veramente ingenti, guardate io nel 2017 sto prelevando 104.000 euro, chiaramente voi dovete proiettarlo nel futuro, questo dovete immaginare non sia il 1970 ma il 2030 o il 2070, quindi 2071, 2072, 2073. Ecco avete già capito la limitazione di questo, di questa analisi, io non sto facendo qui delle simulazioni, sto facendo una simulazione, non posso fare il giochetto che ho fatto sempre, cioè prendere questa finestra di 50 anni e scorrere in avanti, sì posso farlo, invece che partire il 2 gennaio 70 posso partire il 3 gennaio 70, il 4 gennaio 70, il 5 gennaio 70, ma non è che vado tanto avanti, è perché vedete dopo 50 anni io sono arrivato al 2.1.2020 e quindi posso andare avanti al massimo di 2 anni e mezzo, 3 anni, 3 anni, non di più, quindi posso spostare questa finestra di 3 anni, mi piacerebbe fare tantissime simulazioni, ma non ho i dati, inoltre l'altro problemuccio è che io sto prendendo dati degli anni 70, ora si potrebbe arguire che lo Standard & Poor's degli anni 70 magari non si comporta come lo Standard & Poor's di adesso, apro una piccola parentesi, faccio notare per correttezza che io, guardate qui, ho modificato lo Standard & Poor's vero aggiungendoci un 1.5% per tenere conto dei dividendi, perché questo è quello senza dividendi, quindi per tenere conto dei dividendi l'ho aumentato dell'1.5% all'anno capitalizzato, quindi è supposto che ogni anno prenda circa l'1.5% in dividendi e che questi chiaramente vengono capitalizzati, se preferite la distribuzione, come avete visto qui, nel caso proprio del Fire la distribuzione è pessima, contrariamente a quello che dicono tutti quanti, ma dopo ti fai le cose distribuzione, ti fai le cose distribuzione e ci paga il 26% secco su ogni distribuzione, mentre così io ci sono addirittura degli anni, soprattutto all'inizio, in cui vedete parlo delle tasse risori, 40, 0, 500 euro, dopo più avanti parlo di tassoni, ma vedete qui più avanti pago praticamente il 26%, 100.000, 25.000, però qui le tasse sono spesso in molti anni piccole o risorie, o addirittura zero, però io ho tenuto conto correttamente dei dividendi che vengono accumulati, eccoli qui, nella formula. Torniamo al problema, il problema quindi è che io ho pochi dati per fare simulazioni e a questo punto devo chiedere aiuto a Python, non è che Python mi risolve il problema, anzi faccio una cosa che per gli informatici è veramente molto 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 banale, ma capisco che per chi non è abituato a questo tool di informatico e statistica può sembrare molto strana, cosa faremo? Noi siccome non abbiamo dati, o meglio abbiamo dei dati ma non sono abbastanza, li moltiplichiamo, un po' come la modificazione dei panni e dei pesci ma vista a un livello molto molto meno divino, come faccio a moltiplicarli? Io pur sempre ho 50 per 253 rendimenti annuali, quindi ho 50 anni, 253 giorni di mercato in ognuno, quindi ho 50 per 253 rendimenti annuali, posso pescare a caso 50 rendimenti annuali da questo sacco e costruirmi una serie temporale, questo in virtù del fatto che il mercato azionario abbastanza a caso si muove, in realtà non li sto prendendo totalmente a caso, cioè non è che sto sparando numeri a caso, sto pur sempre prendendo dei rendimenti azionari che si sono verificati negli ultimi 50 anni almeno una volta, quindi sto prendendo dei rendimenti azionari veri, certo non li sto prendendo nella stessa sequenza, sto andando a vedere cosa succede se la sequenza dei rendimenti varia, siccome qualcuno mi potrebbe giustamente obiettare che di solito la sequenza dei rendimenti ha un certo filo logico, tipicamente è su, giù, su o su, su, giù, cioè se va su per due anni di solito va giù, se va giù per due anni quasi sempre va su, quindi diciamo ha un certo filo logico, allora mi permetto di prendere la cosa in questo modo, fisso un giorno a caso e lì prendo il rendimento da quel giorno in un anno avanti, poi il rendimento per l'anno dopo, il rendimento per l'anno dopo, quindi una tripletta di anni e poi ne vado a pescare un altro a caso, quindi mi ricostruisco la serie di 50 anni, sono sempre rendimenti che sono successi veramente nel passato, ma me la costruisco con un ordine casuale, quindi non è casuale, è con un ordine casuale, per farvi capire, ecco qui, mi scarico questa volta lo standard and poor TR, che è l'indice standard and poor con i dividendi, quindi questa volta abbiamo i dividendi e io stavolta però devo restringermi in parte dall'88 mi sembra, vediamo, ecco qui, si parte dal 3188, 89 addirittura lo standard and poor TR, quindi ho meno dati, però grazie al trucco della simulazione mettendo un ordine casuale, io riuscirò ad avere sempre 50, anzi addirittura 100 anni di dati, così potete simulare anche cosa succede se andate in pensione a 20 anni, contenti? Ok, per farvi capire cosa sto dicendo, ecco qui, ad esempio, vedete ho estratto casualmente il primo estratto, il secondo estratto, il terzo estratto, mi sembra l'estrazione dell'8, bari 12, ok, invece di bari 12 abbiamo 5 giugno 17, quello che è venuto a caso, e faceva un 18%, quindi vuol dire dal 5 giugno 17 al 5 giugno 18, poi 6 giugno 18, 16% fino all'anno dopo, e 10 giugno 19, non è esattamente il 6 perché sono sempre i giorni festivi che non sono mai gli stessi durante l'anno, certi anni che sono Natale, Capita e Domenica, cose del genere, 6%, quindi la tripletta sarebbe più 18, più 16, più 6, facciamo un'altra estrazione giusto a farvi capire, ecco qui, questo è il 2007, 8, meno 40 perché è il 2008, 32, questi ripeto, sono tutte triplette che sono successe veramente nel corso della storia, quindi non è che sto sparando numeri a caso, estrazione ancora, 30, 19, esattamente 0, ah, 2012, 2013 aveva fatto un rendimento esattamente 0, ok, io questa cosa qui la ripeto e mi faccio per tutti 100 anni, diciamo, eccola qui, e lo faccio quante volte voglio, quindi posso fare ad esempio 100 simulazioni, in questo caso farò solo 100 simulazioni perché voglio farvele vedere su un grafico, se ne facessi 10.000 come farò dopo, nel grafico non ci stanno, ecco qui, vedete, sono tutte, partono da 1, ecco qui, partono tutte da 1 e poi questa qui è 1,24, vuol dire che ha beccato un anno che era più 24, questa qua è un'altra simulazione, 1,09, ha beccato un anno che era più 9, questa qua 8,17 però è alla meno 1, quindi 0,817, ha beccato un anno brutto, ha perso il 13%, e così via, avanti, 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 praticamente partono tutte, queste qua sono solo 100, partono tutte da 1, questa rossa, guardiamo a 60 anni invece che a 100 che è un po' esagerato, questa rossa, rossa e blu, queste 3 qui, sono quelle che sono andate meglio, questa è una simulazione disastrosa, devo avere pescato a caso, sempre triplette, andate male, guardate, no inizia bene, poi va male, male, sembra il Giappone, o l'Italia di questi tempi, la borsa intendo, stavolta però rifaccio tutto, ma vedete quante simulazioni, 10.000, quindi ci vado giù pesante, ok, fa tutto lui, tracca, tracca, ecco fatto, ci mette un po', perché deve calcolarsi 10.000 estrazioni casuali per 100 anni, quindi 10.000%, cioè un milione di estrazioni casuali, è già fatto, ok, iniziamo finalmente l'analisi, parto con un capitale 700.000 euro, il prelievo al solito annuale è 2.000 per 13, l'inflazione la supponiamo del 3%, questi sono tutti i parametri che voi potete cambiare, anzi, se qualcuno di voi fosse interessato a cambiare questi parametri ma non sa programmare in Python, installare questa cosa qui, questa interfaccia che si chiama Anaconda, e gli informatici fanno sempre delle battute di pessimo gusto Python e quindi la cosa si chiama Anaconda, che si chiama Anaconda, è abbastanza facile devo dire, decisamente facile, quindi se volete posso fare, ho già il tutorial in inglese, ma se volete posso fare un mini tutorial italiano su come installare Anaconda, poi voi chiaramente vi cambiate soltanto i parametri, invio, invio, invio e lui esegue, anni di rendita 51, quindi io resto in pensione per 51 anni, massimo 99 perché avete soltanto 100 anni di simulazione, ricordo, quindi tacchete, ok, lui si calcola tutti i prelievi anno per anno, vedete lì adegua per l'inflazione, eccola qui, ok, dopodiché fa le simulazioni, si calcola esattamente come nel foglio Excel, uguale uguale, la tassa, ecco vedete questo è esattamente come nel foglio Excel, 26% di tassa, se la calcolo ogni tanto sarà 0, ogni tanto no, e poi si calcola quanti soldi gli rimangono, fa tutto immediato, ringraziamo Python che è velocissimo, ecco qui cosa succede, partite non con 700.000 ma con 674.000 perché il primo anno già gli prelevate 26.000 euro e l'ho voluto fare esattamente analogo alle foglie Excel, potevo fare che si partiva già con 700.000 ma nel momento in cui voi raggiungete quella cifra voi smettete di lavorare e avete subito bisogno di soldi che dovete mangiare per tutto l'anno seguente, quindi 674.000, ecco questa è una simulazione andata male perché siete già scegli a 504.000, questa è stata benissimo, nonostante il prelievo dell'anno seguente 774.000 e così via, fa tutte le sue simulazioni, ok, e cosa vi dice? Dice guarda con 700.000 euro di capitale questo prelievo, questa inflazione è a 51 anni, a 51 anni ci arrivi con qualche soldo, quindi vedete maggiore o uguale 0, con qualche soldo, nell'83.97% dei casi, nel 16.03 non ci arrivi, quindi devi chiedere la carità prima, quindi voi sapete che se avete 700.000 euro, qui non ho stavolta preso l'indice standard pur vero, ho preso l'indice standard pur con i dividendi dall'88 adesso ma prendendo, facendo 10.000 simulazioni di scenari possibili, quindi su 10.000 simulazioni di scenari possibili 84% arrivate ai 50 anni di pensione, cioè per un periodo di 50 anni state in pensione. A questo punto voi mi direte beh, fai un po' di modifiche, prova a cambiare con 700.000, prova a cambiare questo qua perché magari uno di voi non vuole stare 50 anni in pensione, si accontenta di starci 40 o meno o di più, vuole stare 60. Ecco, io volevo stupirvi con effetti speciali e lo farò, ho fatto direttamente una tabella che cambia questo e questo automaticamente, non cambia questi due, quindi questi due li dovete cambiare a manina voi se siete interessati a cambiarli, però di solito questi due ve li fissate, ste a posto, e fa tutto la tabellina per questo e questo, guardate che bella, qua sotto avete tutti i capitali di partenza, se partite con 100.000 euro, guardate, arrivate col 25% delle possibilità a 5 anni, rischiate quindi dopo 5 anni di prelievo a colpi da 26.000, quindi avete 75% di possibilità che sia azzerato, dopo 8 anni siete sicuri che sia azzerato, e d'altronde avete 100.000 euro e ne prelevate 26.000 all'anno, voglio vedere se 8 anni non l'avete azzerato, se partite già, addirittura partendo con 200.000 euro avete una minima possibilità di arrivare a 50 anni, ecco diciamo che, ecco con 800.000 euro a 50 anni, vi durano 50 anni col 90% di possibilità, non male, se ad esempio vi accontentate di avere 20 anni di dolce fra niente, ecco 99% di possibilità basta avere 800.000 euro, se volete essere sicuri, sicuri, sicuri serve 1.900.000, 1.900.000 avete 100%, non è esattamente 100%, sarà probabilmente qualcosa tipo 99,6,7, quindi avete meno dell'1% di possibilità di arrivare alla fame, comunque già direi che io mi accontenterei di questo 97, dai, 96, con 1.000.000 di euro vi dura per 50 anni a suon di prelievi del 26.000 euro aggiustati per l'inflazione e considerando le tasse calcolate correttamente vi dura, avete il 96% di possibilità che vi duri per 50 anni. Già sento l'obiezione, non è tanto un'obiezione ma una miglioria, in Italia, in America no, ma in Italia c'è la pensione, come minimo la minima, quindi come minimo vi prendete la minima, quindi voi dite ma io mi accontento di vivere per un certo numero di anni con questi soldi, dopo ne avrò bisogno di meno perché prenderò anche la pensione. Ho pensato anche a questo e inseriamo anche la pensione. Capitale 700.000 euro, prelievo sempre il solito, inflazione sempre la solita per 20 anni. Passati quei 20 anni finalmente avete diritto alla pensione e vedete che il prelievo vi scende. Supponiamo ad esempio che prendiate 1200 euro di pensione e attenzione che sono 1200 euro di adesso, di pensione, che tra 20 anni saranno di più, lui calcola tutto anche questo. 1200 euro di pensione, aspetta controllo che lo calcoli, si lo calcola anche questo. Quindi voi fate i conti, voi dite, so 20 anni senza far niente, dopo 20 anni vado avanti a 1200 euro di pensione, quindi me ne servono soltanto 800, sempre ragionando di adesso, poi lui adeguerà il tutto, se siete curiosi basta stampare prelievi che vi dice esattamente quanto preleverete dai vostri asset anno per anno. E questo lo fate durare per i 30 anni successivi. Considerate che la somma di due deve essere massimo 99, non 52 come scritto qui. La somma di questo e questo deve essere massimo 99 perché abbiamo soltanto 99 anni di simulazione. Fatto! Vedete questo sarà più favorevole perché soprattutto nella fase finale preleverete di meno. È vero che la cosa che cambia parecchio è la fase iniziale, perché se nella fase iniziale iniziate a prelevare massicciamente, infatti secondo me piuttosto che fare fire conviene fare mezzo fire, quindi smettere di lavorare a metà così nella fase iniziale non massacrate il capitale. Ok, ecco qui, fa tutto, tutti i calcoli. E vi dice, vedete? Prima era, quant'era? 84%, adesso stessi dati ma ovviamente dopo un po' prelevate meno, avete 94% di possibilità di farcela. Anche qui ho fatto la matrice. Eccola qui, al solito non sperate di fare fire con 100.000 euro, però già con 300.000 euro avete un po' di possibilità, 38%, vediamo qui cos'era con 300.000 euro, 23% e già qui con, vedete, con 700.000 euro siete sopra al 90% di possibilità di farcela. 50 anni vuol dire 20 anni vivete completamente a spese dei vostri asset e per gli altri 30 anni a spese dei vostri asset per 8 ventesimi e a spese dello Stato per 12 ventesimi. E con un milione siete super sicuri praticamente. Già con un milione e tre andate a uno secco. Il cambio, vedete il cambio netto arriva qui, dopo il ventesimo anno, dopo il ventesimo anno va giù così, fino al ventesimo anno è uguale alla precedente, quella sopra, e dopo il ventesimo anno finalmente la smette di andare così e va, tac, molto più giù. Vuol dire che gli uno, che è la sicurezza sicurissima, sicurissima, al 99,6% di andare in pensione, di essere, di sopravvivere fino a quell'età lì. O meglio, che i soldi sopravvivono fino a quell'età lì, voi non si sa. Ecco qui, questo direi che è tutto e scusate, tra l'altro vedo che la telecamera fa veramente schifo. Questa è la telecamera del mio portatile. Saluto tutti e ci vediamo alla prossima. Buona pensione! Buona pensione!